Si può dire che questo è il 100% dei danni che abbiamo subito, qui non è un territorio minimo, è un territorio abbastanza vasto, cioè che comprende, su peggio abbiamo fatto delle indagini, un 5 mila ettari di terreno. La grandinata di mercoledì pomeriggio ha messo in ginocchio l'agricoltura bitontina. I segni del flagello del maltempo sono evidenti sugli alberi di olive, di mandorle e sulla vigna. Gli agricoltori hanno cominciato la conta dei danni, che si fa più pesante se si considera che il territorio è stato già penalizzato da una grandinata di giugno. Noi agricoltori non abbiamo più reddito, nessuno ci riconosce niente, è veramente straziante, noi non sappiamo cosa fare, cambiare mestiere, che mestiere facciamo? Al danno si aggiunge la beffa, spiega il vice sindaco di Bitonto, delegato all'agricoltura, Domenico Damascelli. Le norme per il risarcimento dei danni e il riconoscimento dello stato di calamità naturale sono cambiate. L'attuale decreto legislativo 102 del 2004 purtroppo non prevede più il risarcimento del danno come un tempo agli agricoltori, se non a coloro che hanno stipulato polizze assicurative, costi insostenibili a causa della perdurante crisi di mercato. Facciamo appello alla regione affinché nella conferenza Stato-Regioni per l'agricoltura, ai parlamentari locali affinché sia cambiato il decreto legislativo 102 del 29 marzo 2004 perché non tutela gli agricoltori, non li risarcisce. Un tempo invece si riuscirono a ottenere contributi, fino al 2004 appunto, con una restituzione del 60% in 5 anni a tasso agevolato e il 40% a fondo perduto, cosa che oggi non avviene più.